Papa Francesco ha incontrato nel Palazzo Apostolico venerdì il Presidente della Repubblica Ellenica, Carlos Papulias. Nel corso dei cordiali colloqui, espressione dei buoni rapporti esistenti, sono stati affrontati temi di comune interesse, tra cui lo statuto giuridico delle comunità religiose, il ruolo della religione nella società e la collaborazione ecumenica. Ci si è soffermati sulle conseguenze sociali della crisi economica mondiale, come pure sul contributo della Grecia all'interno dell'Unione Europea. E' stata espressa preoccupazione per il futuro della presenza dei cristiani in Medio Oriente, per l'instabilità politica e le situazioni di conflitto che interessano diverse regioni del mondo.